GM Termosanitari. Qualità, professionalità, esperienza. A Rovelletto di Cadeo. Telefono 0523 500 639. www.gmtermosanitari.it Massi sulla strada. Statale 45, chiusa tra Bobbio e Marsaglia. Arrivati i rocciatori da Aosta. In azione due escavatori per liberare la frazione isolata di Pomarolo, piccolo abitato nei pressi di Ferriere. Sono ingenti i danni provocati dal maltempo nella provincia di Piacenza. A Mucinasso, due etti di cocaina trovati in una sacca. Il pusher è stato inseguito dalla polizia locale, ma è riuscito ad eleguarsi. Valore commerciale 16.000 euro. Da una parte i pubblici esercizi hanno il diritto di tenere aperta la loro attività. Dall'altra i cittadini devono poter riposare. È quanto emerso dall'incontro che Confesercenti ha avuto con i residenti del corso esasperati dalla movida notturna. Il comune potrebbe decidere sugli orari. Dopo l'esonero di Massimo Maccarone e l'arrivo sulla panchina bianco-rossa di Stefano Rossini, la dirigenza del Piacenza punta a rinforzare la rosa. Arriveranno un difensore, un centrocampista e un attaccante. Tutte le altre notizie in tempo reale sono disponibili sul nostro sito liberta.it. GM Termosanitari. Qualità, professionalità, esperienza. A rovelletto di Cadeo. Telefono 0523 500 639. www.gmtermosanitari.it www.gmtermosanitari.it.it